Nicola cos'è? Ti occupi. Ma essenzialmente di Silvia dico? Si di me, parla di me. Niente, praticamente Silvia la conosco ormai da cinque anni, cinque anni sono, e siamo partiti da quello che era il problema principale, ovvero di dare un po' di forza e la cura migliore al momento l'abbiamo trovata soprattutto nel moto, la quale con Silvia abbiamo visto che anche nella sua condizione riesce a farmi non una ma ben dieci vasche, quindi è tutta una forza di volontà che viene da Silvia, sia da mirare ma comunque da prendere da esempio, quindi l'acqua ci dà sostegno, forza e soprattutto rilassa. Esatto, io mi devo mettiamo le queste perché Nicola? Sto facendo un vintaggio a Silvia, un vintaggio contenitivo per quanto riguarda il braccio perché per quanto riguarda la sua patologia, adesso ti farò un po' male Silvia, però va a creare questo deficit motorio e muscolare. Noi non facciamo altro che tenere il polso un attimino più stabile e soprattutto che possa fare qualsiasi cosa tra cui scrivere, tenere qualcosa in mano e questo lo facciamo da sempre due volte a settimana. Esatto. Comunque con questi vendaggi abbiamo la fortuna che resistono all'acqua, può farci la doccia, quindi sono quelli più al momento che ti aiutano di più. E quindi stiamo facendo un percorso perché la malattia ha un suo percorso. Esatto. E non dobbiamo cercare di tenerla sempre un po' a bada. Esattamente. Con quello che possiamo anche perché in questo momento le fiscine sono chiuse e tante cose sono chiuse e purtroppo ci dobbiamo arrangiare con quello che abbiamo. Questo è un agliattivo chiaramente, però è qualcosa che a Silvia serve, assolutamente. E sempre. Non è che serva un periodo dell'anno specifico. Serve sempre. Sì perché oltre a questo mi devo ottenere un tutore perché sennò il polso mi cade e in conseguenza devo aiutarmi con il muscolo, come si dice lì. Tutto il muscolo della spalla, chiaramente, anche portando avanti una spalla, anche la schiena. Esatto. E se noi sedia... Esatto. Non è la cosa migliore. Perché la cosa che dobbiamo tenere più conto è anche la postura in sedia. è più Grazie a tutti.